Benvenuto a Nome, una piccola cittadina nel sud della penisola di Seward, sulla costa occidentale dell'Alaska. Qui fa freddo, nevica molto e non ci sono strade che colleghino la città ad altri luoghi abitati. Cosa inquietante, quando scende la notte gli abitanti spariscono senza lasciare traccia. Forse è per questo che ci vivono solo 3500 persone. Esaminiamo il caso. Le persone spariscono per le ragioni più svariate, ma Nome è riuscita ad attrarre l'attenzione dei media. Dal 1960 al 2004 sono scomparse 24 persone, un numero statisticamente troppo alto per una popolazione così ridotta. Semplicemente le persone non sono tornate a casa il mattino e nessuno sa cosa gli sia successo. Tutti gli abitanti di Nome si conoscono. Praticamente non ci sono forestieri, perché è difficile da raggiungere. Non ci sono né strade né traghetti. Tutte le strade a Nome si interrompono e conducono a posti bellissimi e incontaminati. Ci si può arrivare con l'aereo, ma non con un volo di linea, solo con un biplano. Si può raggiungere anche in motoslitt. Nome è il posto dove si svolge la famosa gara di cani da slitt, chiamata I di Tarod. Infine si possono pagare gli abitanti o quelli dei villaggi vicini per avere un passaggio in barca, ma nonostante questo isolamento la città è diventata famosa. La frequente scomparsa di persone ha ricevuto l'attenzione che meritava. Il mondo intero ha scoperto l'esistenza di Nome e nel 2009 anche Hollywood vi si è interessata, ricavandone un film. Il mistero è rimasto irrisolto a lungo. La polizia non aveva indizi né testimoni. In inverno le notti sono lunghe e fredde. L'aria si raffredda così tanto che un bicchiere d'acqua può congelare in pochi minuti. Nevica costantemente, perciò se qualcuno lascia la città di notte la neve ne copre le tracce. Naturalmente la gente ha cominciato ad avere delle teorie. La più popolare era che le persone fossero portate via con la forza, ma la polizia non ha mai trovato nessuna prova a sostegno di questa teoria. Se il colpevole non era umano, doveva trattarsi di una bestia, ma la polizia non ha trovato prove nemmeno a supporto di quest'altra teoria. Poi si è pensato che a causare le scomparse fossero creature di altri pianeti. Molti abitanti erano convinti che la città fosse la meta preferita di navicelle extraterrestri. La trama del film Il quarto tipo si basa su questa versione. Passò molto tempo. Infine, la polizia e l'FBI aprirono un'indagine su larga scala e scoprirono la verità. Capirono che le storie sulle persone scomparse erano ingigantite. Ormai, visto che il nome era diventata famosa e si era legata a storie affascinanti, le persone credevano a tutto. Supponiamo che alcune scomparse fossero inventate, altre erano reali. Cos'era successo a quelle persone? Sembra che sia stata colpa dei bar e del brutto tempo. I locali sono aperti anche di notte. Gli abitanti vanno al bar, si divertono e poi escono per tornare a casa. In quel momento arriva una forte tempesta di neve. La visibilità è pari a zero e il vento forte ti sbatte a terra. È facile perdersi. Punto. La verità è più bizzarra di qualsiasi storia inventata. Il triangolo delle Bermuda copre un'ampia zona dell'Atlantico, per cui la scomparsa di navi aerei non sorprende, ma è spaventoso quando succede su un lago. Stiamo parlando del triangolo del lago Michigan. Si trova tra il Michigan e il Wisconsin. Per un paio di secoli vi sono successe cose terribili. Le stesse leggende inventate sul triangolo delle Bermuda sono state inventate anche su questo posto. Sono stati riportati fenomeni inspiegabili e avvistati oggetti volanti sulla superficie del lago. Secondo alcuni il triangolo è un portale temporale. Naturalmente nessuna teoria è stata confermata, ma nell'area del triangolo sono successi fatti strani. Uno ebbe luogo nel 1950, quando un aereo della Northwest Airlines, con 108 passeggeri, scomparve senza lasciare traccia mentre sorvolava il lago. I poliziotti avvistarono una luce rossa sul lago due ore dopo l'ultima comunicazione. L'aereo era probabilmente caduto, ma i soccorritori non trovarono mai né i passeggeri né la carcassa. Era rimasta solo una macchia d'olio sull'acqua. In questa zona sono scomparsi molti aerei e molte navi, ma il 28 aprile 1937 successe qualcosa di davvero straordinario. Una nave stava attraversando il lago. Il capitano George Donner andò a dormire nella sua cabina dopo una dura giornata di lavoro. Tre ore dopo, la nave si avvicinava al porto. Un membro dell'equipaggio andò nella cabina del capitano per svegliarlo. La porta era chiusa dall'interno. L'uomo bussò, ma non rispose nessuno. Quando iniziò a sospettare che fosse successo qualcosa al capitano, sfondò la porta. Entrò nella cabina, ma il capitano non c'era. Era svanito nel nulla. L'equipaggio non riuscì a trovarlo. Da allora, l'inquietante scomparsa del capitano George Donner è rimasta irrisolta. Ti presento David Paulitz. Nel 2008 ha terminato la sua carriera da poliziotto per indagare sulle misteriose scomparse di persone in Europa, Stati Uniti e Canada. Ha scoperto che la maggior parte delle persone è scomparsa nei parchi nazionali degli Stati Uniti. Negli ultimi 150 anni sono spariti più di 1100 turisti. Molti erano escursionisti esperti, in grado di sopravvivere in condizioni brutali. David ha anche scritto di queste misteriose sparizioni. Ha sottolineato come molte persone scomparse siano state poi ritrovate vive. Si sono svegliate da qualche parte nel bosco, senza ricordare che cosa gli fosse successo. Il dettaglio inquietante è che molte di queste persone erano giovani. Un altro fatto strano è che spesso le sparizioni sono avvenute prima di un uragano. Molte domande rimangono ancora senza risposte. Nella parte nord-occidentale dell'oceano Atlantico si trova il Mar dei Sargassi. È l'unico mare senza sponde. Viene chiamato mare solo perché si trova tra le correnti oceaniche. Inoltre, sul fondale cresce un'alga bruna che lo fa somigliare a un punto arancione nel bel mezzo dell'oceano. Il Mar dei Sargassi è diventato famoso perché nel XIX secolo vi fu trovata una delle più celebri navi fantasma di sempre. Nel 1872 un brigantino stava attraversando il Mar dei Sargassi. Il suo capitano scorse un'altra nave a poche miglia di distanza. Accese un fuoco di segnalazione, ma non ricevette risposta. Allora decise di avvicinarsi per scoprire cosa stava accadendo. Sullo scafo della misteriosa nave c'era il nome Mary Celeste. Il capitano del brigantino e il suo equipaggio salirono a bordo. Controllarono il ponte, le cabine e la stiva. Era tutto a posto, ma non c'era nessuno. Il carico di barili era rimasto intatto, quindi la nave non era stata attaccata dai pirati. L'unica cosa danneggiata erano le vele, che erano a pezzi. Dalla cabina dell'ufficiale di rotta mancavano tutti i documenti, tranne il giornale di bordo. L'ultima annotazione risaliva al 24 novembre 1872. La ciurma non fu mai ritrovata. E questo è un caso fra tanti. Nel ventesimo secolo, dagli anni 60 agli anni 80, fu riportata la scomparsa di molte navi e yacht che stavano attraversando quel mare. Sparirono senza lasciare tracce. Tutti questi casi sono rimasti irrisolti. In base a una delle teorie, le correnti sui quattro lati del mare formano dei tunnel d'acqua. I mulinelli possono velocemente trascinare una nave in profondità. Questo spiegherebbe la scomparsa delle navi. Ma i casi delle navi rimaste a galla senza equipaggio? A volte i mulinelli formano dei vortici di vento come piccoli tornado. E se queste trombe d'aria fossero così potenti da gettare le persone in acqua e strappare le vele? Certo, sembra surreale, ma secondo te, cos'è successo? 84 milioni di anni fa. Molti mammiferi, uccelli, insetti, persino le prime piante da fiore erano già lì. I dinosauri sono ancora in circolazione. Hanno davanti circa 20 milioni di anni prima dell'impatto dell'asteroide. Il T-Rex, un cacciatore senza paura, diventa il re dei dinosauri. In quel periodo l'asse della Terra si inclinò di 12 gradi. Immagina il nostro pianeta come un tartufo di cioccolato. Il guscio è duro, mentre l'interno è viscoso, di una materia semisolida. Il suo strato superiore, la crosta, è composto da placche tettoniche, come pezzi di un puzzle. I continenti e gli oceani si trovano su queste placche. 84 milioni di anni fa, il mantello e la crosta hanno iniziato a ruotare intorno al nucleo esterno del nostro pianeta, per poi tornare indietro. Se fossi stato in grado di vederlo dallo spazio, avresti visto l'intero pianeta ribaltarsi su un lato. La città di New York si sarebbe trovata all'altezza della Florida. Il nostro pianeta è come un'enorme trottola. Gira perfettamente se il peso è distribuito uniformemente. Ma se si sposta a parte del peso su un lato, si corre il rischio di inclinarlo. Probabilmente lo spostamento delle placche e l'inavissamento di una sotto l'altra ha causato questo evento. L'acqua che beviamo potrebbe essere più vecchia del nostro sistema solare. Alcuni scienziati ritengono che l'acqua sulla Terra proviene da granelli di ghiaccio che galleggiavano in una specie di nube spaziale più di 4,5 miliardi di anni fa. I laghi non sono sempre tranquilli e rilassati, possono scoppiare. Succede quando sono presenti gas vulcanici sotto la superficie che, salendo, possono esplodere causando enormi danni. La rotazione della Terra rallenta con il tempo. Ogni anno la Luna riceve un po' di energia dal nostro pianeta e si allontana. Queste due cose stanno rendendo molto lentamente il nostro giorno più lungo, di circa 1,4 millisecondi ogni 100 anni. Questo significa che quando c'erano i dinosauri il giorno durava 23 ore. Il nostro pianeta era viola. Una teoria afferma che i microbi primordiali avevano un pigmento meno complesso della clorofilla per assorbire il sole. Assorbivano la luce verde e poi riflettevano un bel viola. Ogni volta che fai un tuffo nell'oceano ricorda che stai nuotando sopra più di 700 trilioni di dollari d'oro. Non sul fondo dell'oceano in attesa che qualcuno lo tiri fuori, ma in minuscole particelle disperse nell'acqua. Il luogo più profondo del nostro pianeta è la Fossa delle Marianne, un punto nell'oceano Pacifico, sotto il livello del mare. Ma il posto più profondo non coperto dall'oceano è in Antartide. Tecnicamente è nascosto sotto spessi strati di ghiaccio. Raggiunge una profondità di oltre 2.500 metri sotto il livello del mare. Più di 60 tonnellate di polvere cadono dallo spazio ogni giorno. Probabilmente inali una buona quantità di questa polvere cosmica mentre vai al lavoro. Si tratta di polvere, piccole particelle di comete, meteoriti e altri corpi spaziali. Dallol in Etiopia è il luogo abitato più caldo del pianeta. Tra il 1960 e il 1966 la temperatura era di 41 gradi centigradi. E anche in inverno la temperatura media arriva a 37 gradi centigradi. 8 minuti e 20 secondi. Questo è il tempo necessario alla luce del sole per viaggiare dal sole al nostro pianeta. Non è molto rispetto a quello che la luce impiega per raggiungere Plutone, 5 ore e mezza. Quasi il 70% dell'acqua dolce che abbiamo nel mondo è contenuta in iceberg e ghiacciai. Più del 96% della quantità totale di acqua sulla Terra e negli oceani. La Terra è come un grande magnete. Il suo nucleo interno è in realtà una sfera di ferro solido circondato da ferro liquido. Tutte queste variazioni e cambiamenti di densità e temperatura creano una specie di forza che induce la produzione di correnti elettriche. Queste correnti vengono allineate dalla rotazione del pianeta, creando un campo magnetico. La Via Lattea contiene tantissime stelle, 100 miliardi. Ma gli alberi sul nostro pianeta sono di più, circa 3 trilioni. Puoi conoscere l'età di un albero dai suoi anelli. Questi segni possono anche dirti le condizioni di un dato anno. Quando sono sottili significa che c'è stato un periodo di siccità, mentre quelli spessi indicano un periodo piovoso. La Terra è un pianeta magico dove anche le rocce camminano. Quanto meno alcune, nella Death Valley in California, si spostano lasciando una traccia. Così puoi registrare il percorso che hanno fatto. Rocce più grandi hanno lasciato tracce lunghe fino a 460 metri. Le rocce dal fondo liscio si spostano a zigzag, mentre quelle ruvide tendono a lasciare tracce dritte. Il mondo che ci circonda è composto da atomi che sembrano solidi. In realtà il 99,99% è solo spazio vuoto. Un atomo è un nucleo molto piccolo e una nuvola di elettroni che lo circonda. Questi elettroni sono particelle, ma si comportano come onde. Non è possibile localizzarli in un punto, ma sono distribuiti su una gamma di probabilità e occupano molto spazio. Prendi lo spazio vuoto nei nostri atomi. Tutti gli umani potrebbero stare in uno spazio molto stretto, come il volume di una zolletta di zucchero. L'Australia si sta lentamente spostando verso nord, 7 cm all'anno, a causa dei movimenti tettonici. È in cima alle placche tettoniche continentali che si muovono più velocemente. Ci vorrebbero 400.000 lune per raggiungere il livello di luminosità che ha il Sole. Sembra molto, ma la luna riflette solo la luce proveniente dal Sole. Non ne produce di propria. Ma questo non basta. La sua luminosità dipende dall'angolo esatto tra il Sole, la Luna e la Terra. Il pianeta su cui viviamo aveva due lune, o almeno così credono alcuni scienziati. Il lato della luna che si affaccia sulla Terra è piatto e basso, mentre l'altro è più spesso e crostoso. Una teoria afferma che c'era una seconda luna andata in collisione con la nostra. Alcuni credono che ci sia ancora una seconda luna. Potrebbe non essere un corpo spaziale gigante che possiamo vedere chiaramente nel cielo, ma una sorta di piccolo asteroide attirato nell'orbita della Terra. L'aria non è composta principalmente da ossigeno. Quasi il 78% è azoto. Nel Parco Nazionale a Uitac, in Canada, è possibile osservare delle rocce particolarmente ripide. Il parco ospita la più grande caduta verticale del Canada, la più alta e la più ripida scogliera con 105 gradini di sporgenza e 1.220 metri di roccia. Una squadra di quattro scalatori americani è arrivata in cima nel 1985. In precedenza ben 30 volte era stata tentata la scalata. Hanno impiegato 33 giorni per salire. Il Pacifico, l'Atlantico, l'Indiano e l'Artico sono i quattro oceani del mondo. Il quinto è l'Oceano Meridionale. Non è definito dai continenti che lo circondano, ma dalla sua corrente antartica che va da ovest a est. Le ricerche indicano che questa corrente è stata creata più di 30 milioni di anni fa, quando il Sud America e l'Antartide si sono separati. Questo ha permesso all'acqua di scorrere sul fondo dell'oceano senza barriere. Lo scioglimento degli acciai e degli iceberg si traduce in più acqua negli oceani. La massa e la pressione sul fondo del mare aumentano, creando ulteriori depressioni. La superficie della Terra sembra solida e permanente, ma ogni 500 milioni di anni passa attraverso un processo di rigenerazione. Le placche tettoniche si scontrano, la crosta continentale crea pressione sulla crosta oceanica, che attiva i vulcani. Con il tempo ciò causa la rigenerazione e la sostituzione della maggior parte della superficie terrestre, proprio come il nostro corpo rigenera le cellule della pelle, sostituendo quelle vecchie con le nuove. Di tutti i pianeti del Sistema Solare, la Terra è l'unico con la crosta esterna rotta in enormi superfici che chiamiamo placche tettoniche. È un processo importante che ha permesso la formazione di trincee oceaniche e rilievi montuosi e che aiuta a proteggere la Terra. Quando le piante microscopiche che vivono nell'oceano smettono di vivere, cadono sul fondo. I resti tornano all'interno del nostro pianeta e vengono riciclati. E alla fine finiscono nell'atmosfera, proteggendoci dal surriscaldamento e dalla trasformazione in Venere, il pianeta più caldo del nostro Sistema Solare. C'è una forte tempesta di neve. Il freddo gli penetra nelle ossa. Le sue gambe sono quasi immerse nella neve fino al ginocchio. Joe Labelle, cacciatore esperto, si fa strada nella foresta coprendosi il viso dal vento. Qualsiasi altra persona sarebbe già caduta e avrebbe urlato di disperazione, ma non Joe Labelle. Riesce a sopravvivere in qualsiasi circostanza e sa sempre cosa fare. In questo momento si sta dirigendo verso un villaggio all'estremo nord del Canada. Questo piccolo insediamento si trova sul lago Anjikuni. Gli abitanti del villaggio sono Inuit, popolazione indigena del Nord America. Joe non mangia e non beve da molto tempo. Ha bisogno di dormire e mangiare un pasto caldo, che spera di ricevere dagli ospitali Inuit. Attraverso gli alberi e la foschia nota le sagome di alcune tende. Del fumo fuoriesce dalle case. Probabilmente Joe arriverà in tempo per pranzo. Raggiunge il villaggio e in quel momento il vento si calma. La bufera di neve è finita. Il cacciatore accelera e si dirige verso il villaggio situato lungo il lago ghiacciato. È strano, ma non ne vede gli abitanti da nessuna parte. Probabilmente sono tutti in casa ad aspettare che la bufera passi. C'è nessuno, urla Joe, ma non ottiene risposta. Fantastico. Da questa tenda esce del fumo. Joe bussa, ma nessuno apre. Bussa ancora un paio di volte ed entra. La piccola tenda è vuota. Tutte le cose sono al loro posto. Sul tavolo c'è un pezzo di stoffa con aghi e filo. Nel camino c'è della legna che arde. Sembra che gli inquilini se ne siano appena andati. Joe entra nella tenda successiva e si trova davanti la stessa scena. Tutte le cose sono al loro posto, ma non ci sono persone. Joe passa davanti ad altre tende e vede una fossa dove un tempo ardeva un falò. Sopra c'è una corda con appesa la carne che gli Inuit stavano cucinando. Per qualche motivo non l'hanno mangiata. Il lago Anjikuni fa parte di un gruppo di corsi d'acqua. Qui gli Inuit pescano e commerciano. Di solito ci sono molte persone, ma ora qualcosa li ha costretti a lasciare le loro case. Perché hanno abbandonato tutto e dove sono andati? Non ci sono tracce intorno al villaggio. Le slitte sono al loro posto. Gli Inuit hanno persino lasciato lì i loro cani. I cani li aiutano a cacciare e a guidare le slitte. Nessuno lascerebbe alle sue spalle vestiti caldi e cani, soprattutto in caso di maltempo. Joe Labelle lo sa bene e conclude che lì è successo qualcosa di terribile. Il suo corpo trema, non per il freddo ma per la paura. Pur facendo il giro dell'intero insediamento non trova anima viva. Terrorizzato lascia il villaggio. Si dirige verso il palo del telegrafo più vicino e invia un messaggio alla polizia. Dopo un po' arrivano sempre più persone. La polizia cerca di trovare tracce delle persone scomparse e di capire cosa sia successo, ma non trova nulla. Vicino al villaggio invece nota una tomba vuota. Durante la cerimonia gli Inuit avevano posto delle pietre intorno al luogo di sepoltura. Le rocce intorno alla fossa aperta sono intatte, il che significa che non è stato un animale a scavare. Nel villaggio vivevano circa 30 persone, tutte scomparse. Gli abitanti dei villaggi vicini non sono d'aiuto perché non hanno idea di cosa sia successo. L'unica cosa che la polizia nota sono delle insolite luci blu. In questa zona l'aurora boreale è un fenomeno comune. Gli abitanti del posto osservano regolarmente questo fenomeno nel cielo stellato, ma la polizia ha visto qualcos'altro, delle luci blu pulsanti. Anche altri cacciatori hanno assistito a qualcosa di simile. Dicono di aver visto strane cose volare in cielo. Tutto questo è accaduto nel 1930. Sono passati quasi 90 anni dalla scomparsa del villaggio e la gente ha elaborato diverse teorie. La più popolare è quella dell'attacco di una civiltà extraterrestre. Secondo questa teoria le luci blu nel cielo sarebbero state astronavi extraterrestri. Alcuni credono che una notte in fausta quelle astronavi siano volate verso l'insediamento e ne abbiano portato via tutti gli abitanti. Oltre a queste versioni fantascientifiche ce ne sono anche di più realistiche. Gli utenti di internet hanno scoperto che Joe Labelle non aveva la licenza di caccia. Forse non era un professionista e si è inventato tutto, ma all'epoca molti cacciatori non l'avevano, quindi le parole di Joe potrebbero essere vere. Se cercassimo di scoprire da dove provengono tutte queste informazioni però, vedremmo che le fonti sono libri e articoli di giornale degli anni 30, ma nessuno di essi può confermare che la misteriosa storia del lago Anjikuni sia vera. Ora lasciamo le nevi del Canada e dirigiamoci verso le calde pianure dell'India. Lì si trova un altro inquietante villaggio da cui gli abitanti sono scomparsi senza lasciare traccia. È successo nella prima metà del XIX secolo. Ancora oggi la gente del posto evita il luogo perché crede che vi abitino forze marigne invisibili. Scopriamo cos'è successo al villaggio di Kuldara. Si trova nel distretto del Rajasthan. Si può usare un taxi per raggiungere il villaggio o la città più vicini. Il villaggio si trova lontano da altri insediamenti. Sembra deserto, ci sono solo rovine. Sembra quasi che gli archeologi le abbiano recentemente portate alla luce per poi abbandonarle, ma non si tratta di una città antica. Il villaggio è stato abbandonato più di 200 anni fa. Fino a quel momento però era fiorente. Kuldara era un grande villaggio. Gli abitanti del luogo erano per lo più agricoltori. Poi una notte tutto cambiò. Tutti abbandonarono case e possedimenti per scappare via. Nessuno sa perché l'abbiano fatto né dove siano andati. Nessuno ha più visto gli abitanti di Kuldara. A parte i turisti, nessuno ci va mai. La gente del posto è sicura che il villaggio sia maledetto e che sia il centro di attività paranormali. Se chiedessi ai residenti di altre città vicine o cercassi informazioni su internet, scopriresti un paio di leggende sul posto. Una versione popolare dice che la gente ha lasciato il villaggio per mancanza d'acqua. Tuttavia questa versione non spiega perché i residenti lo abbiano fatto di notte lasciando lì tutte le loro cose. Secondo un'altra versione, gli abitanti del villaggio fuggirono per salvare la figlia del capo Kuldara. Un sovrano locale si innamorò di lei e voleva sposarla. Minacciò gli abitanti del luogo di gravi conseguenze se la ragazza lo avesse rifiutato. Il sovrano diede loro un giorno per prendere una decisione. I residenti non erano d'accordo con la sua richiesta. In segno di solidarietà decisero di lasciare il villaggio insieme al capo e a sua figlia. Ma se questo è vero, perché nessun altro li ha mai visti? Sarebbero dovuti fuggire in un altro insediamento? Inoltre avrebbero avuto bisogno delle loro cose durante il viaggio. Le storie di Kuldara e del lago Anjikuni hanno una cosa in comune. I locali hanno lasciato un luogo confortevole e sicuro per ragioni sconosciute. Una cosa simile è accaduta in Irlanda, in un piccolo villaggio dell'isola di Eichil. Una quarantina di semplici case di pietra e paglia si trovavano lungo la valle della Baia di Kim. Il villaggio era menzionato in documenti risalenti agli anni trenta del diciannovesimo secolo come un gruppo di piccoli edifici. Oggi però non ne rimane praticamente nulla, se non pezzi di mura e piccoli cumuli di terra. Gli abitanti di altri insediamenti non ricordano questo villaggio, ma noi lo conosciamo grazie alle testimonianze degli scrittori di viaggio, che nei loro diari hanno descritto l'incredibile bellezza di questo luogo. Gli studenti della scuola archeologica locale hanno cercato di trovare delle risposte, avviando degli scavi per poi scoprire che gli abitanti del villaggio potrebbero averlo abbandonato a causa di carestie o malattie. Sei in aereo, stai viaggiando, guardi fuori e rifletti su come sia meraviglioso che un oggetto così pesante riesca a stare in aria. In realtà quelle grandi nuvole e cumuliformi che vedi a forma di cane possono arrivare a pesare più di 450.000 kg. Le nuvole sono solo piccole gocce d'acqua addensate insieme. Non preoccuparti, non cadranno a terra tutte insieme. La Via Lattea sembra composta da un numero infinito di stelle, ma gli esperti della NASA sono convinti che il numero sia compreso tra 100 e 400 miliardi di stelle. Esistono circa 3 trilioni di alberi nel mondo e circa 400.000 specie di piante. Di tutte queste piante, tra 80.000 e 300.000 sono commestibili, ma solo circa 200 sono presenti nelle diverse cucine del mondo. Se ti sei appena trasferito in Alaska e sogni le spiagge assolate, beh, su con la vita! Le Hawaii ti stanno venendo incontro, anche se molto lentamente. Le placche tettoniche si muovono alla stessa velocità con cui crescono le tue unghie. Le Hawaii si spostano di 5 cm ogni anno perché la placca del Pacifico le spinge verso nord. Le api ti ronzano intorno usando quattro ali invece di due. Le due ali che vedi di solito si agganciano, diventando un'unica ala durante il volo. Ma quando atterrano e si rilassano, si sganciano diventando nuovamente quattro ali. Per passare da un fiore all'altro sfruttano una serie di collegamenti invisibili. Le api possono volare più in alto del monte Everest, che è alto quasi 9.000 metri. Gli uragani non possono attraversare l'equatore a causa dell'effetto Coriolis, una forza che è anche responsabile di numerose tempeste. Le aree di bassa pressione nell'emisfero ruotano in senso anti-orario. Nell'emisfero sud ruotano in senso orario, quindi più un uragano si avvicina all'equatore, minore sarà la sua rotazione. L'acido all'interno del tuo stomaco è così forte che può sciogliere l'acciaio inossidabile. Questo acido ha un pH che oscilla tra 2 e 3 e non scioglie le tue interiora grazie al rivestimento dello stomaco che secerne una sostanza chimica per bilanciarlo. Il tuo corpo sostituisce questo rivestimento ogni 4 giorni circa. I gufi hanno dei tubi oculari al posto dei vulvi oculari. Gli esseri umani possono girare la testa ad un angolo di 180 gradi e possono ruotare i loro occhi in più direzioni. I gufi non muovono gli occhi liberamente come noi, ma compensano girando la testa di 270 gradi. Riescono a vedere benissimo anche di notte. Ok, camaleonte, abbiamo capito. Puoi muovere gli occhi indipendentemente in tutte le direzioni. Per favore, smetti di fissarmi. Se per caso ti trovassi nell'atmosfera di un pianeta del nostro sistema solare, molto probabilmente nuoteresti nei diamanti. Le atmosfere di pianeti come Giove e Saturno raggiungono delle pressioni talmente elevate che sono in grado di cristallizzare gli atomi di carbonio e creare diamanti. Gli scienziati sostengono addirittura che su Saturno piovano fino a 2 milioni di chili di diamanti all'anno. Il sole continuerà a diventare sempre più luminoso e più caldo. Alla fine farà evaporare gli oceani, rendendo la vita sulla Terra come in un forno, la stessa che c'è su Venere. La nostra Via Lattea è irrotta di collisione con la galassia di Andromeda. Stelle, asteroidi, pianeti e lune si scontreranno e distruggeranno tutto. Naturalmente una cosa del genere non accadrà da un giorno all'altro, ma alla fine le due galassie si uniranno in un'unica mega galassia chiamata Super Ammasso. Questo non accadrà prima di miliardi di anni, per cui evitiamo di preoccuparci troppo. I loro lenti, con i loro caratteristici occhi a palla, saranno anche carini, ma sono gli unici primati velenosi del regno animale. Producono il veleno in una ghiandola posta nell'incavo del gomito e ne masticano le secrezioni prima di mordere un predatore. Sfortunatamente il loro numero sta diminuendo in natura. Le foreste e le giungle non sono le uniche responsabili della produzione della maggior parte dell'ossigeno che respiriamo. L'ossigeno viene prodotto anche dalle creature microscopiche chiamate fitoplancton, che vivono negli strati superiori dell'acqua, in particolare negli oceani. Come le piante, anche loro usano la fotosintesi per trasformare la luce del sole in ossigeno. Ce ne sono così tante che la loro produzione di ossigeno uscilla tra il 50 e l'85% del totale. Plutone è stato scoperto nel 1930 e finora non ha mai compiuto una rotazione completa intorno al sole. Plutone impiega 248 anni per completare la sua orbita, il che significa che Plutone festeggerà con fuochi d'artificio e countdown nell'anno 2178. Ci sono stati casi in cui uno strato di neve ha coperto i paesaggi sabbiosi del deserto del Sahara. Sorprendentemente non è nemmeno il più grande deserto della Terra. Il vincitore in questa speciale categoria è il deserto polare antartico. Al posto della sabbia troviamo dell'acqua congelata. Anche il Sahara riceve più precipitazioni del deserto antartico. Nel 1933 la Double Eagle era una moneta del valore di 20 dollari. Ne vennero rilasciate sul mercato solo pochi esemplari. Questo tipo di moneta non fece breccia, così decisero di ritirarle dal mercato. La maggior parte venne distrutta, solo alcune vennero conservate. Nel 2002 qualcuno ha comprato una di queste monete ad un'asta per 7 milioni 500 mila dollari, rendendola la moneta più costosa mai venduta ad un'asta. Le zampe del canguro sono dotate di un meccanismo a molla che li fa saltellare, ma sarebbe impossibile farlo senza le loro code che fungono da contrappeso. Questi mammiferi possono raggiungere una velocità di circa 25 chilometri orari, ma non possono saltare all'indietro. Uno dei tuoi snack estivi preferiti è stato inventato per caso da un ragazzo di 11 anni nel 1905, Frank Epperson, che lasciò durante una gelida notte invernale un bastoncino in una scodella con acqua e soda che si congelò durante la notte. Decise di chiamarlo Epsicle, ma oggi sono comunemente chiamati ghiaccioli e sono disponibili in molti fantastici gusti. L'animale più grande della Terra pesa quanto 33 elefanti. La sua lingua da sola arriva a pesare quanto un elefante. Il cuore di una balena blu pesa quanto una piccola automobile e pulsa ogni 10 secondi. Tre grandi balene blu impilate verticalmente sono alte come la statua della libertà. Un essere umano potrebbe nuotare facilmente nelle loro vene. La bruchesia nana, conosciuto anche come camaleonte nano, è il rettile più piccolo mai scoperto. Nel gennaio 2021 un gruppo di ricercatori ha scoperto questa creatura durante una spedizione nelle foreste pluviali del Madagascar settentrionale. Si nutre di acari e altre creature microscopiche ed è lungo poco più di 1,3 cm. Europa è una delle molte lune di Giove ed è l'oggetto spaziale più vicino a quello che gli scienziati chiamano la nostra prossima futura casa nel nostro sistema solare. Ha una superficie ricoperta di ghiaccio ma si ritiene che sotto ci sia un oceano che potrebbe pullulare di esseri viventi microscopici. Se hai paura del buio probabilmente la luna non è il posto per te. Le ombre sono più scure sulla luna che sulla terra. Sul nostro pianeta l'atmosfera è in grado di disperdere più luce solare a differenza di ciò che avviene sulla luna. I popoli dell'antica Grecia dell'antica Roma usavano delle ragnatele appiccicose come bende naturali per i pazienti. Alcune ragnatele contengono delle sostanze chimiche naturali incorporate che facilitano la guarigione. Le ragnatele sono così forti che 5 cm di ragnatela opportunamente avvolti possono fermare un aereo in fase di atterraggio. Uno studio dimostra che i toporanni hanno una mutazione nel loro sistema che li rende meno sensibili alle spezie. Sono l'unico mammifero conosciuto, a parte gli esseri umani, ad apprezzare il sapore dei cibi piccanti che bruciano la bocca. Attraverso un esperimento con un gruppo di altri mammiferi si è scoperto che mentre i mammiferi evitavano il cibo piccante, i toporanni lo frangugiavano senza pensarci. I delfini sono una delle creature più intelligenti del mondo, in parte perché possono dormire mentre sono svegli. Durante il sonno i loro cervelli devono essere parzialmente svegli per evitare gli attacchi da altri predatori acquatici. Durante un incendio l'aria calda tende a salire, spingendo l'aria fredda intorno a rimpiazzarla. Questo movimento causa la formazione di una colonna rotante. È così che nascono i tornado di fuoco o vortici di fuoco. I polpi possono essere rari da individuare perché si mimetizzano molto bene, ma possono deporre più di 55.000 uova. La madre